Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Poiché quest'oggi siamo con l'ultimissimo appuntamento Con le missioni esperto di Budokai Tenkaichi 4 Anche se, anche se, questo non sarà sicuramente l'ultimissimo appuntamento Poiché, lo so già che perderemo tantissime volte Poiché quest'oggi andremo ad affrontare la battaglia finale La missione esperto in realtà finale di questo gioco E me l'avete dipinta come il male assoluto Me l'avete dipinta come un qualcosa di letteralmente ingiocabile E oggi ci andremo a cimentare proprio in questa battaglia Quindi, eccola qui, missione esperto numero 7 Non so minimamente chi troveremo contro Non so minimamente anche con chi giocheremo E mi avete dato qualche consiglio Mi avete dato qualche consiglio nel video dell'allenamento E mi avete detto che è meglio giocare di spam È meglio giocare come abbiamo sempre giocato Più o meno, più o meno in realtà Perché non tutti i video e non tutte le battaglie abbiamo giocate spammando Quindi mi avete consigliato di spammare a raffica E di evitare qualsiasi suo colpo poiché ti sciotta praticamente O con una mossa speciale o con giusto tre colpi Ecco, tre colpi a combo e ti sciotta È finita Quindi, noi proviamoci Proviamoci Non dico altro Cerchiamo di non arrabbiarci troppo Sicuramente ci arrabbieremo ma non troppo Quindi, dovute premesse fatte, signori Sta per iniziare la battaglia finale Io sono emozionato Sono emozionato Ma impaurito Ecco, impaurito Quindi dai, portiamoci in battaglia E iniziamo subitissimo La nostra sfida finale Ok Quindi è lui il nostro nemico Così, su Oh, oh, oh Oh, dov'hai, oh Non ci ha fatto niente, oh Fermi tutti Non ci ha fatto niente Oh, però, oh, però Questo cos'è, oh Ma cos'è che questo attacca in questo modo? Ma Ma mo ti faccio vedere io Ti faccio vedere io Comunque sì, siamo contro un machine de migra, signori Machine de migra Perché c'è cooler lì sopra? Perché? Metal cooler in realtà Oh, fermo qui che ti faccio subito un pugno dragon che ti distruggo Un pugno dragon Eccolo qui Siamo contro machine de migra barra meta cooler E siamo con Goku super saian di quarto livello Tra l'altro questo qui ovviamente è il demigra Forma primordiale, forma finale Oh, e fermate Guardalo Guardalo sto maledetto No, comunque Non ci sta facendo Cioè, lo stavo per dire Ingrid, stavo per dire Non ci sta facendo più di tanto Ma quanto spacca Oh, fighissimo Ok, nuovo tentativo Nuovo tentativo Probabilmente ci ha battuti in tempo record lui qui, eh Non siamo mai stati battuti in così poco tempo In questo gioco, in queste missioni esperto Daie, 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 daie Goku Cerchiamo di metterlo sotto Perfetto Facciamolo allontanare Io comunque un minimo di combo vorrei inserircele Oh, e fermate E ferma Eh, ho sbagliato È inutile Non te ne rendi conto Finché non ce l'hai davanti Signori Ci ha shottati Con la mossa speciale Più cretina di sempre Io Io non ci credo Io non ci voglio mai credere Boom Vattene Via Allora, dobbiamo stare sempre full aura qui Sempre E dico sempre full aura Perché dobbiamo assolutamente Evitare le sue mosse in questo modo Vabbè Fin quando ci fa le proiezioni Ci fa poco Pochissimo Oh, fermati Basta, basta Demigra mi stai affa- Demigra ora, ora, ora mi sto arrabbiando Demigra Ti dico ora mi sto arrabbiando, eh Comunque Comunque Fermi tu Oh, l'abbiamo beccato Che bello Comunque Fermi tutti Devo dire una cosa Per tutti i grandissimi soloni Che arrivano sotto sti video Delle missioni esperte E dicono Eh Blah No Dicevo Ma come devo fare Evitare queste mosse Guarda lì Quanto ci fa Guarda Non è possibile Non è possibile No Devo inventarmi qualcosa qui Dai Ho capito tutto Ho capito tutto Però Allora Carichiamoci Carichiamoci Aspettiamo le sue mosse Al limite E no Vabbè Ci ha beccato la Ci ha fermati la mossa di impeto Facciamogliela noi Meno male Si prende pochissimo la mossa di impeto Infatti mi è stata consigliata Ora che ricordo Mi è stata consigliata La mossa di impeto Prima di tutto Per evitare le sue speciali E poi perché Sfrutta davvero Poca aura E no Pensavo di evitarlo Così No 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 Signori Sta missione È una roba Che è indecente Indecente Mi era stato detto Che era impossibile Ma non immaginavo Fino a questo punto E non puoi evitare Ogni volta Ste caspio Di Di mosse ad impeto Non è possibile Non è possibile Sta missione Perché inventate Ste cose Perché inventate Ste cose Infernalissime Perché Mi domando solo Per quale motivo Solo per fare Incazzare un povero Blazzi Lo fate Daie Daie Continuiamo a metterlo sotto Con ste combo Daie Daie che non c'è Stacca pi niente Daie che gli stai Ma fa un pochino Di danno Almeno Boom No No Vabbè No Che è stata a di Che è stata Che è stata a di Così Non ci voglio mai Credere Non ci voglio mai Credere Io sto a vedere Delle robe Assurde Oggi Daie Quale tentativo Siamo Non riesco Manco più a parlare Inizio a balbettare Adesso Eh però Fra poco Inizierò a dire Anche qualche parolaccia Ne sono sicuro Guarda Se deve evitare Guardalo Quanti tentativi abbiamo fatto Non è possibile Riproviamo Riproviamo Io inizio già Ad essere Full Di tutto ciò Eh ve lo dico Eh basta Oh F Datti Na calmà Ti devi Da na calmà Ti devi Calmare Stai calmo Ma se mi evitava Anche sta mossa Di impeto Davo di matto Che voi Non immaginate Nemmeno Non lo immaginate Allora signore Ora basta Ora basta Davvero Ora si inizia A spammare Questa mossa Continuamente Ve lo dico Sarà un gameplay Completamente Saturo Di questa mossa E che hai fatto Lì Cos'era Dai 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 Goku Dai Facciamogli vedere Di che pasta Siamo fatti Facciamogli vedere Chi è Che spamma Come si deve In sto gioco E fermati Fermati Fagliela Dai Mi fa arrabbiare Quando mi eviti Sta mossa Demigra Che io ti Mi sto arrabbiando Demigra Mi sto arrabbiando Adesso È la prima missione Che gli sto riuscendo A fare qualcosa Con sta mossa L'apri Guardalo Guarda se mi devi Fa arrabbiare così Guarda Dio 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 Come devo fare A vita Quella mossa Come Nemmeno con la Impeto Si può evitare Nemmeno con la Kamehameha Ultimo tentativo Boh Forse penultimo Ultimo Non lo so Non lo so Vediamo Vediamo Però Ci ha fatti caricare Ci ha fatti caricare Ah no 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 Evitalo Si 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 può evitare Si può evitare Si può evitare Si può evitare Devo soltanto avere la lucidità Devo avere la lucidità Di evitarla Madonna Madonna Guardalo Guardalo Daie 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 No ce la vuole fare Ce la vuole fare Quando si allontana così No 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 Dai Dai Non la superiamo qui Non la superiamo Però Però Se d'ora in poi Adesso che abbiamo scoperto la missione com'è Se d'ora in poi in settimana mi inizia ad allenare Signori questo lo devastiamo Ne sono sicuro Pugno del drago Pugno del drago Adesso No No Io ti ammazzo Io non so cosa ti combino adesso Demigra No eccolo No No Come devo fare Come devo fare Allora Proviamoci davvero l'ultimissima volta Ok Non riusciremo a superarlo Ma io devo capire effettivamente Lui come Quali sono i suoi comportamenti Devo capire questo Allora Quando lui si allontana Prova ogni tanto sempre a farci qualcosina di brutto Di bruttissimo Quindi Cerchiamo di Intanto mi è successo qualcosa Ma mi ha fatto male Mi ha fatto male quando ci ha beccato Vabbè è andata così oggi dai È andata così Non ce la faccio più Do di matto oggi Do di matto Mi sto distruggendo Quindi sì Fallito Fallito Sì abbiamo fallito L'abbiamo persa almeno 10 volte Sta missione oggi Almeno 10 tentative abbiamo fatto Magari possiamo fare così Possiamo fare ogni domenica 10 tentativi E ogni tentativo Possiamo provare a fare anche delle challenge In cui ad ogni tentativo sbagliato Tipo Prendo una padella E me la do in testa Così Chiudiamo il canale Muoio E Poi se ne parla Non lo so Non lo so Sto dando di matto Oggi sto dando di matto Signori Per il momento Direi che possa bastare qui Almeno ho capito Effettivamente La potenza di Demigra Ho capito Che davvero Non ci si scherza con lui Inizialmente Ok Ho detto Vabbè Ci sta facendo poco Costecomo Ci sta facendo pochissimo Non ci dava tregua Però ci sta facendo pochissimo Poi signori Quando ho fatto la terribile scoperta E lì sono cambiate le cose Lì sono cambiate le cose Ho iniziato a temerlo come si deve E quindi È stata una preparazione Questa qui È stata una preparazione Probabilmente Nemmeno nel prossimo video Riusciremo a batterlo Però almeno ci proveremo Quindi signori A questo punto Io vi invito a lasciare un mi piace Se questo video vi è piaciuto Adesso che abbiamo comunque Le informazioni sul nemico finale Fatemi sapere Assolutamente Assolutamente Come l'avete battuto Se ci siete riusciti Perché dobbiamo batterlo Dobbiamo batterlo Non è possibile Che su questo canale Non venga battuto Ma ci indemigra Quindi lasciate un mi piace Se questo video vi è piaciuto Lasciate un commento Fatemi sapere le vostre opinioni Vi ricordo che in descrizione Trovate tutte le informazioni Per acquistare Questa fantastica maglietta Di Gotenks Ghost Kamikaze Attack Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Condividete questo video Non ce la faccio più E quindi vi do appuntamento Come al solito Ad un prossimo Video E quindi vi do appuntamento